La loro icona ecologista è la sedicenne svedese Greta Thunberg che con le sue lunghe trecce ha svegliato i potenti del mondo dal loro torpore sulle politiche ambientali e ha fatto milioni di seguaci su tutto il pianeta al grido di salviamo il mondo. La moderna pipi calze lunghe ha fatto proseliti anche nella città di Fano ed un gruppo di giovani forti e belli ragazzi e ragazze ha dato vita ad un gruppo fanese il Fridays for Future il quale assieme ad altri gruppi di ispirazione ambientalista ha da tempo da febbraio di questo anno ingaggiato una battaglia contro i rifiuti che stanno soffocando il nostro habitat. Il tutto ha preso inizio dalla pineta di Ponte Metauro. Qualche settimana fa c'è stato il ferragosto, l'aset è passato a pulire però chiaramente non si mette a raccogliere i pezzettini di carta, le plastiche, i mozziconi e quindi c'era parecchio sporco in giro e quindi ci abbiamo passato noi ancora con Puliamo Fano, con il Fridays for Future e con la città del sole. Spiagge libere, ex campo di aviazione, foce del metauro, sono questi i luoghi dove sono intervenuti raccogliendo oltre 2500 kg di rifiuti nocivi per l'ambiente e in ogni posto hanno riscontrato un triste primato in termini di tipologia di rifiuti. Il grosso della sporco era nel fosso che è qua di fianco, che fiancheggia la pineta, dove abbiamo trovato addirittura una sorta di scarica abusiva perché iniziando a scavare sotto questo fosso abbiamo trovato di tutto. C'era veramente, abbiamo trovato dei pantaloni, abbiamo trovato delle scarpe vecchie, abbiamo trovato dei cavi di rame tagliati per rubare il rame. Noi per queste cose siamo in contatto con la municipale e ci sono delle indagini in corso per verificare che cosa sarà, che cosa c'è lì sotto insomma. Ora nella pineta di Ponte Metauro, domenica prossima, tempo permettendo, hanno deciso di finire il lavoro assieme a tutti coloro che decideranno di aiutarli in questa lotta al momento impari. Naturalmente i social sono la loro casa, essendo dei nativi digitali e quindi per seguirli è lì che li dovete cercare. Per contattarci si trovate sia su Facebook che su Instagram, alle pagine di Fridays for Future Fano e di Pugliamo Fano. Per chi non avesse i social ci può scrivere anche sulle mail all'indirizzo puliamofano.gmail.com Il prossimo evento sarà sempre qui in Pineta, domenica alle 5 e continueremo proprio i lavori che abbiamo iniziato venerdì scorso. In particolare ci concentreremo lungo il fossato dove abbiamo trovato la maggior parte dei rifiuti, per cui chi volesse venire si può seguire o gli eventi di Fridays for Future oppure nella pagina di Pugliamo Fano. Chiaramente il fossato è abbastanza pericoloso perché non sappiamo bene cosa c'è sotto, ci può essere di tutto. Di conseguenza bisogna essere attrezzati, guanti, scarpe e tutta la correnza per evitare qualsiasi infortunio.